Ci sono tre partite importanti in questa settimana in cui vogliamo fare punti, toglierci definitivamente dai pensieri della bassa classifica e nello stesso tempo divertirci. Lo ha detto anche il Verona che si vuole divertire e questo mi fa piacere. Mi auguro prima di tutto che sia una bella gara e che alla fine riusciamo a portare a casa punti in trasferta che è un po' di tempo che non ci riusciamo. Bisogna sempre ambire a qualcosa di più importante, è ovvio che passo dopo passo questo lo andremo a valutare. Sicuramente voglio che i miei ragazzi non si accontentino, a partire dalla partita di domani che sarà una partita dal mio punto di vista importante. Ha dimostrato di aver fatto un po' di fatica all'inizio, poi si sono ripresi e adesso sono andati anche a vincere in un campo importante. Dove dire che è una squadra che ha dei valori e ha un ottimo allenatore che in questi anni è riuscito sempre ad ottenere risultati importanti in una piazza sicuramente non facile. Gli altri ci hanno i diffidati, noi abbiamo tanti infortunati, preferirebbe avere qualche diffidato in più e qualche infortunato in meno. Questo non ci aiuta nelle scelte, non mi aiuta, però di necessità faremo virtù. Sono convinto che chi scenderà in campo dovrà anche dimostrare la voglia di far bene in quest'ultima gara. È ovvio che stiamo lavorando su questi due moduli, il 3-4-3 e il 4-3-3, spostando il meno possibile tre attaccanti. Valuterò da qui a domani e vi assicuro che cambierò perché sono dell'idea che tre partite una settimana, anzi in sei giorni difficilmente si riescono ad assorbire. È proprio fisiologico, per quello siccome tutti si allenano in determinata maniera cercherò di ruotare il più possibile.